L'innocente sapore dell'infanzia, una caramella per accogliere il pubblico di chiasso letteraria nell'universo dell'esilio. Un testo, i quaderni di Nisveta, scritto appositamente per l'evento chiassese da un'ex bambina della guerra in Bosnia. Il racconto di un esule, quella di un paese, che dopo lo spettacolo hanno acceso la miccia per un incontro tra l'autrice e l'ex procuratore del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, Carla Del Ponte. Io lo so che non c'è niente di strano e di malsano nel fare delle domande riguardo il passato delle persone. E poi veramente la grotonetta andrebbe fatta al forno perché non è... Io contribuirò a rendere il mondo più giusto. Giuro che te lo... Io contribuirò a rendere il mondo più giusto. Ogni pagina del quaderno la dividiamo in tre colonne. La prima per nome e cognome, la seconda per io sono contro la guerra... Andiamo di porta in porta a chiedere alle persone di scrivere il loro nome e di scegliere. Voi la guerra o no? Vuoi la guerra o no? Voi la guerra o no? Voi la guerra o no? Voi la guerra? Grazie.